Buongiorno a tutti Iniziamo subito. Il governo di cui la Lega fa parte con il decreto aiuti del 12 maggio ha stanziato 14 miliardi di euro a favore di famiglie e di imprese. Ci dà una sua valutazione dell'efficacia di questo decreto? Di questa misura? Vede, io penso che in questo momento tutte le famiglie si stiano accorgendo dell'arrivo di un nemico molto pericoloso che è l'inflazione. Ci sono due tipi di inflazione. L'inflazione è la domanda che quando le cose vanno bene. I prezzi salgono perché tutti comprano le cose, gli scappali si svuotano e i negozianti alzano i prezzi perché hanno tanti clienti. E questa è quella inflazione che io chiamo l'inflazione buona che c'era ad esempio negli anni 80 quando c'era una forte... Quando il mercato funziona bene. Sì, poi vedevo prima che si ricordavano i momenti gloriosi di Maradona. Io penso che tutti ci ricordiamo quel periodo come un periodo in cui si stava meglio di adesso, probabilmente al di là degli aspetti calcistici. Eppure l'inflazione era più alta. Perché allora l'inflazione non creava problemi? Perché significava forte crescita e poi gli stipendi e i salari erano protetti da quella che si chiamava la scala mobile. Chi c'era si ricorda, vale a dire un'indicizzazione degli stipendi tali per cui se aumentava l'inflazione venivano compensati. Adesso c'è un nemico molto pericoloso per tutte le famiglie che è l'inflazione da offerta. Vale a dire arrivano meno prodotti e quello che arriva costa di più come per esempio l'energia e similari. E voi capite che io non faccio fatica a immaginare come può essere la vita di tante famiglie che fino a ieri spendevano tutto lo stipendio che avevano per beni di prima necessità e adesso si trovano a dover pagare magari una bolletta triplicata oppure i generi di prima necessità che aumentano in modo notevole. Con lo stesso stipendio far fronte a delle spese che si sono raddoppiate se non triplicate. È molto problematico e quindi quello che noi stiamo cercando di fare è premere il ministro dell'economia che per definizione il ministro dell'economia dicono sempre che non hanno soldi. Però andare lì a dirgli che il problema invece è oggettivamente molto serio e quindi di mettere un primo risultato l'abbiamo avuto con il primo decreto quello per le accise. Perché vi ricordate che c'è stato un momento che le cose stavano andando fuori controllo? Cioè quando c'era la benzina a 2,3 euro, 2,4 euro. Sì, in un passato molto recente, parliamo di un paio di mesi fa, un mese fa. Prima dell'intervento sulle accise la situazione stava veramente diventando impossibile. Allora, quel primo decreto ha contribuito a riportare i prezzi a un livello decente. Però scade, ogni volta che scade bisogna metterci una cifra aggiuntiva. Però mi sembra che sia il caso di mettercela. Ecco, quindi fra le tante spese che uno può fare questa mi è sembrata utile. E dall'altra parte bisogna ovviamente stare molto attenti a trovare delle compensazioni per i redditi bassi. Perché altrimenti è molto chiaro che tante famiglie non possono farcela fisicamente. Insomma, non possono rinunciare all'acqua, alla corrente o così via. E se arrivano a dei prezzi totalmente assurdi non va bene. Assolutamente. Gianni, misure importanti bastano secondo te per i privati e soprattutto per la piccola e media imprenditoria? Beh, devo dire che io mi sono già espresso sul proposito. Devo concordare con l'onorevole Borghi. Sicuramente il governo sta facendo grossi sacrifici. Però dobbiamo altrettanto concordare che in effetti, come già detto dall'onorevole, questi sacrifici non sono sufficienti. Perché con l'inflazione che sta galoppando, tra le altre cose, il PIL, ahimè, oggi è proiettato allo zero, vicino allo zero. Quindi le famiglie si troveranno aggravate di costi di 2.500 euro in un anno. Quindi è tanto. Ovviamente non ricordiamo che tra le altre cose la CISE sui carburanti scade l'8 luglio, tanto per essere più precisi. E tra le altre cose dobbiamo dire che 200 euro a famiglia, perché riguarda un po' l'ISEE familiare, quindi a copertura di 2.500 euro sono insufficienti. Quindi c'è bisogno di, come dire, di interventi del governo più energici. Bisogna cercare di trovare non soltanto i fondi aumentando il reddito, ma tra le altre cose, e credo l'onorevole sarà d'accordo con me, ci sono tante fonti da cui attingere e non aggravare sul debito pubblico. Faccio un esempio, la macchina statale oggi costa 1.000 miliardi all'anno. È stimato che su questi 1.000 miliardi ci sono circa 200 miliardi di sprechi. 200 miliardi equivalgono a quello che arriverà complessivamente dal recovery fund, o quasi praticamente, di cui una gran parte, 130-140 miliardi, dovranno essere restituiti entro il 2056. Tra le altre cose, quando poi parliamo del PNRR, dobbiamo stare attenti perché è una grande opportunità, ma può essere anche un pericolo, nel senso che devono essere spesi bene questi soldi. A proposito di questo, il ministro dell'economia Franco ha evidenziato nel forum che si è tenuto da poco verso Sud che non basteranno sei anni per consentire al mezzogiorno di riassorbire il ritardo. Occorre guardare ad un tempo più lungo. Lei cosa ne pensa, onorevole, e soprattutto come si sta muovendo il suo partito per cercare di limare questo gap tra Nord e Sud che è ancora molto, molto, molto grande? Vede, questa era una delle cose che quando sono entrato in Lega, vale a dire nel 2013, non avevano capito, o quantomeno in pochi avevano capito. vale a dire che il gap fra Nord e Sud non era a causa di uno è più bravo e l'altro è meno bravo, ma è a causa di situazioni economiche che non potevano essere colmate. Una fra tutte è la moneta. Io una delle cose che avevo spiegato era che la lira, intesa come unica moneta per due aree che partivano da un punto di partenza molto diverso, cioè il Nord era molto più avanti come punto di partenza rispetto al Sud, e invece diventava uno zaino dello stesso peso per tutti, con il risultato però che chi partiva dietro non riusciva a recuperare. Questo è chiarissimo. E questa cosa poi con l'euro è andata forse a peggiorare, quindi il fatto anche solo di capirli questi meccanismi è necessario innanzitutto per vivere meglio insieme come italiani e capire come bisogna intervenire. Cioè vale a dire, se c'è un'area in questo momento che è arretrata, devi alleggerire il suo zaino in modo tale che riesca a correre da sola e quindi tutte le iniziative che hanno funzionato riguardavano, guarda caso, le forti detassazioni, le aree economiche esclusive e così via, in modo tale che si poteva dare un incentivo concreto ad aprire una fabbrica che in un mercato europeo, se uno deve fare una fabbrica, viene più comodo pensare di farla al Nord anche solo per una questione proprio di posizione di infrastrutture rispetto a che parla al Sud. La possibilità di migliorare, di fare infrastrutture che rendono competitivo e possono rendere competitivo il paese, non solo, possono sfruttare le nuove sfide che stanno arrivando, perché tutto il mondo importava e adesso forse invece abbiamo capito che continuare a importare le cose da tutto il mondo non è intelligentissimo, perché è opportuno che ce la facciamo qua in casa nostra e quindi riuscire a fare un programma di reindustrializzazione sarebbe un benefico per tutti. Quindi adesso il ministro... Su cui batte anche sempre il nostro professor Lepre è che la globalizzazione in Italia sembra solo avvenire, non ad andare insomma. Stiamo importando di più di quello che riusciamo ad esportare. Peraltro lei ha toccato un punto molto importante, l'intervento che andrebbe fatto sulle infrastrutture. Lei parlava di stessa moneta, ma anche le stesse opportunità di infrastrutture sarebbero fondamentali al Sud quanto al Nord. Per forza, perché quando ci sono delle infrastrutture anche tanto per dire portuali, che potrebbero essere nel momento stesso in cui si spostano un po' gli equilibri geopolitici e l'Italia diventa comoda, diciamo così, come porto di approdo e simili. Se non sono collegate, come dovrebbero, allora a quel punto conviene... Sono veramente tanti i container e la parte, diciamo, di importazione e di esportazione che preferiscono fare il giro dell'Europa e arrivare su Rotterdam piuttosto che passare dall'Italia perché le infrastrutture non sono aggiornate. E quindi è questo quando uno dice il PNRR che io non volevo perché secondo me era uno strumento sbagliato e l'Italia avrebbe fatto meglio, diciamo così, a ottenere questi stessi soldi con i metodi normali, vale a dire quando il debito era zero di interesse, bastava emettere dei titoli di Stato che ricomprava la Banca Centrale e noi eravamo a posto, come abbiamo fatto durante la pandemia, perché non dimentichiamo che il PNRR era stato congegnato per aiutare gli Stati durante la pandemia, i soldi arrivano quando la pandemia è finita, quindi non è che era poi questa merce così meravigliosa, ma adesso che c'è e che lo paghiamo anche noi e come giustamente ha ricordato il professor Lepre che questi soldi andranno restituiti? Sarebbe un delitto non spenderli bene, per cui bisogna starci molto molto attenti. Gianni, bisogna stare molto molto attenti, questa è un'altra delle tue grandi battaglie. Infatti noi il PNRR spesso sul PNRR ci chiediamo è un'opportunità o un pericolo? Quindi ho riassunto in poche parole quello che è detto dall'onorevole. Tra le altre cose, parlando del gap tra Nord e Sud, dobbiamo dire che proprio il Ministro Franco l'altro giorno ha evidenziato che il PIL del Sud è del 55% rispetto a quello del Nord. Quindi per far rivivere il Sud di che cosa il Sud ha bisogno? In primo luogo dico io meno assistenzialismo perché l'assistenzialismo è fine a se stessa e non risolve il problema. io in questo senso cito spesso un proverbio cinese che dice dona ad un uomo un pesce e lo sfamerai per un giorno insegnagli praticamente a pescare e lo sfamerai per tutta la vita. Quindi ovviamente questo serve a noi del Sud per dire e quindi al governo per vedere come risolvere determinate problematiche per dire meno assistenzialismo però per esempio più sgravi fiscali più sgravi contributivi perché tra le altre cose ecco noi siamo penalizzati dalle infrastrutture ovviamente non soltanto quelle marittime ma anche quelle ferroviarie basti pensare che per andare da Napoli a Bari in ferrovia bisogna ancora prendere la coincidenza tanto per intenderci quindi il costo del danaro un'azienda del Sud un'impresa del Sud che si approccia ad una banca a me paga più interessi rispetto ad una del Nord quindi c'è bisogno in questo senso che il governo guardi un po' le problematiche a 360 gradi perché poi non lo dico io ma lo diciamo poi alla fine un po' tutto l'Italia si salva se si salva il Sud perché comunque siamo poi un'unica nazione quindi nel modo più assoluto bisogna diciamo creare il sistema per aiutare il Sud le famiglie le imprese e tutti quanti quindi convieni con quello che diceva l'onorevole che diceva c'è bisogno di limare quelle che sono differenze ormai ataviche no? Nel modo più assoluto bisogna trovare il sistema sì ma faccio un esempio giusto il fatto che diceva il professore della difficoltà di andare da Napoli a Bari in questo momento sono attesi in Italia flussi turistici importanti il cosiddetto Grand Tour cioè vale a dire la visita per assaggiare il nostro paese da parte di un turista straniero il tragitto Venezia Milano l'abbiamo perso no peraltro siamo in chiusura va bene allora se non si ripristina il collegamento io ringrazio moltissimo il deputato della Lega Claudio Borghi per essere stato con noi grazie glielo dico indifferita grazie Gianni Lepre e noi ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti grazie 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 a tutti.